Magari sarebbe improprio parlare di fulmine a ciel sereno per la vicenda del Mercatone 1, qualche avvisaglia, sì, c'era già stata e anche da mesi. Ma certo, un'evoluzione o involuzione così rapida e anche drammatica nessuno poteva aspettarsela. 1.800 lavoratori in tutta Italia, 105 in Abruzzo, sono quelli che rischiano di rimanere in mezzo a una strada e senza neanche il pur minimo conforto della cassa integrazione. Infatti ancora oggi sono, come direbbe il poeta, fra color che sono sospesi e non licenziati. Oggi una delegazione dei lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali ha incontrato l'assessore regionale Mauro Febbo per fare il punto sulla situazione e stabilire il da farsi. Sono Nicola, RSA della CISL, punto vendita di Pineto. L'impegno dell'assessore è stato quello adesso di avere un contatto diretto con il Ministero affinché si possa accelerare quella che è la pratica più importante per noi, ovvero gli ammortizzatori sociali. Un ammortizzatore sociale che ci permetta di affrontare le spese quotidiane, abbiamo il mutuo ogni primo del mese, le bollette, tutte le tasse, i figli, tutto quello che fa parte della famiglia. Questo è il primo impegno che noi chiediamo e che vogliamo si risolva al più presto. Il problema principale è che questa è un'avvertenza complicata perché c'è una dichiarazione di fallimento. Il Ministero del Mise si è impegnato a intervenire presso il Tribunale per la revoca del fallimento perché se non c'è la revoca del fallimento non riusciamo neanche ad intervenire con gli ammortizzatori sociali e tutto rimane bloccato lì. Nel frattempo per dare sostegno per quello che si può fare a questi lavoratori, per esempio magari chiedere all'ABI la sospensione del pagamento dei mutui, c'è una serie di integrazioni a quelli che possono essere gli ammortizzatori sociali. I lavoratori chiedono anche il TFR che comunque sono somme accantonate dagli stessi lavoratori che però alcuni sono riusciti a percepire, altri no. Come questa è una cosa che mi avevano già segnalato, ho parlato con la direzione regionale dell'Inps che mi ha garantito che hanno già attivato le procedure. Il ritardo è dovuto ad un problema tecnico che c'è stato in quanto non era stato formalizzato il passaggio tra le due vecchie società e quindi loro non potevano mettersi in azione. Adesso che è stato formalizzato arriveranno immediatamente alla liquidazione. Almeno avranno un piccolo sostegno per poter tirare avanti in attesa che si sblocchi la situazione.